Sono almeno una cinquantina le vittime del terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito la parte centrale dell'isola indonesiana di Sulawesi, provocando un'onda di tsunami con picchi di 6 metri d'altezza. Solo a Palu, il capoluogo della provincia, fonti ospedaliere parlano di almeno 30 morti. Altre vittime si registrano nelle città di Donggala e in alcuni piccoli centri limitrofi. Il presidente indonesiano, Yoko Widodo, è apparso in televisione per annunciare l'impegno delle strutture di soccorso, tanto della protezione civile quanto dell'esercito, nella ricerca dei dispersi e nel soccorso alle vittime del disastro. Mentre si teme che il bilancio dei morti possa aumentare col passare delle ore, le squadre di soccorso raggiungono le località più colpite. Secondo fonti del governo, l'area interessata dal disastro, attualmente priva di energia elettrica, è popolata da almeno 300.000 persone. Solo pochi giorni fa vi si era registrato un altro sisma di magnitudo 6.1 che tuttavia non ha provocato vittime. L'Indonesia si trova al di sopra del cosiddetto anello di fuoco del Pacifico, una zona di intensa attività sismica e vulcanica, nella quale si registra una media di 7.000 terremoti all'anno. Grazie. Grazie.